Il Bayer Monaco rischia di perdere una partita perché ha giocato con 12 giocatori in campo. È successo durante il Friburgo Bayer Monaco e inizialmente nessuno se ne era accorto, tranne il difensore del Friburgo che ha avvisato l'arbitro dicendo che c'è qualcosa che non va. Anche l'allenatore del Bayer, come vedete, fa la conta dei suoi giocatori. Infatti guardate queste immagini, i giocatori di movimento del Bayer Monaco sono 11, più ovviamente il portiere diventano 12. È successo perché Coman, al momento della sostituzione, è uscito dal campo. Questo perché la lavagnetta luminosa ha segnalato il numero 29, ovvero il vecchio numero di Coman, mentre adesso indossa il numero 11. Così Sule che doveva sostituire Coman è entrato tranquillamente in campo senza accorgersi di nulla. La partita è stata sospesa quando il difensore del Friburgo, come vi ho fatto vedere prima, ha avvisato l'arbitro. Quindi il Bayer Monaco ha giocato così 17 secondi di partita con 12 giocatori. E ora il Friburgo può fare il reclamo infliggendo i bavaresi alla sconfitta per 2-0 per il mancato rispetto del regolamento.